Zero nuovi positivi al coronavirus su 330 tamponi esaminati nella giornata di ieri nei centri di riferimento degli ospedali di Salerno ed Eboli e quanto emerge dai dati resi noti dall'unità di crisi della regione Campania nel resoconto quotidiano. Sul territorio campano invece su 2.525 tamponi esaminati 20 sono risultati positivi. Il totale complessivo dei positivi in Campania ha raggiunto quota 4.518 unità.